Le scarpette rosse Viene dai fuoco tutte le scarpette rosse Raccontate che là fuori c'è un campo di concentramento Al maschile e al femminile Insegnate ad ascoltarli Io quello che dico alle donne, ascoltate Perché io ti dico una cosa Io dentro di me sapevo che c'era qualcosa che non è andata niente Se rincominciamo il processo sono molto contenta Ma non mi aspetto niente Studiando in tutti questi anni Perché mi sono paragonata e ho voluto andare un po' più in fondo Visto che sono tutte da copione Un po' come avere un cane per la notte E ti danno poi la chemioterapia Esattamente la stessa cosa Un po' come avere un cane per la notte Un po' come avere un cane per la notte